Buongiorno miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi. In questo video abbastanza breve andremo a vedere quali possono essere tre pro e tre contro di investire in dividendi. L'investimento in dividendi solitamente allinea ciò che l'investimento fornisce, ovvero un reddito tramite il flusso di dividendi, con ciò di cui quasi tutti gli investimenti hanno bisogno, ovvero di un reddito che superi le spese per magari la pensione anticipata o comunque per la libertà finanziaria. Come quasi ogni cosa ovviamente però anche investire in dividendi ha dei pro e anche dei contro e di seguito quindi cercheremo di andarli un pochino ad esplorare. Partiamo dal vantaggio di investire in dividendi. Al primo posto mettiamo l'isolamento dalla volatilità del mercato. Infatti l'investimento in dividendi fornisce un cuscinetto contro la natura imprevedibile del mercato azionario. Il mercato azionario, che sappiamo benissimo, sale e scende solitamente in maniera non prevedibile da noi azionisti. A differenza però dei prezzi delle azioni che possono fluttuare anche in modo molto evidente, non solo a seconda di ciò che è supportato dall'economia e dalle finanze, ma a volte anche a causa del sentiment degli investitori e anche naturalmente per fattori macroeconomici e anche per fattori magari geopolitici. I fattori macroeconomici possono essere magari anche previsti, mentre invece quelli più emozionali dovuti al sentiment degli investitori e quelli geopolitici a volte sono del tutto imprevedibili e spesso sono quelli che muovono il mercato in maniera più decisa. I dividendi invece tendono ad essere più stabili e anche crescenti nel tempo. Concentrandosi pertanto sui dividendi piuttosto che sui prezzi delle azioni, gli investitori possono proteggersi psicologicamente dalla volatilità dei mercati. Punto a favore numero due. Un flusso di reddito affidabile. La maggior parte delle aziende, soprattutto quelle americane, pagano dividendi e lo fanno anche in modo costante, in modo crescente addirittura. Parliamo delle dividend aristocrats e delle dividend kings. I dividendi, soprattutto per quelle americane, vengono solitamente pagati trimestralmente. Se invece amiamo investire in ETF, abbiamo tantissimi ETF che pagano su base trimestrale, alcuni su base semestrale, raramente su base annuale. Però andando a mescolare abilmente ETF di questo tipo, riusciamo ad avere flussi di reddito tutti i mesi. Per le aziende finanziariamente sane, i dividendi solitamente rimangono costanti nel corso del tempo o addirittura aumentano. L'abbiamo detto prima. Abbiamo alcuni esempi come Coca-Cola, come Pepsi, aggiungiamone altre, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, ma anche alcune tech con dividendi più bassi le stanno aumentando da tanti anni in maniera consecutiva. Guardate Microsoft e guardate Apple, ad esempio. Questo consente di avere un flusso di reddito affidabile e magari anche potenzialmente in crescita. Vantaggio numero 3 di investire in dividendi, indicatori di salute finanziaria. Infatti le aziende che pagano e aumentano costantemente i dividendi, spesso, non sempre, ma spesso, segnalano una forte salute e una forte stabilità finanziaria. I pagamenti regolari dei dividendi possono aumentare poi la fiducia degli investitori, poiché indicano che l'azienda genera profitti sufficienti a coprire questi dividendi e inoltre ha anche una prospettiva positiva sul suo potenziale di guadagno futuro. Ciò può rendere le azioni che pagano dividendi meno volatili e più attraenti per gli investitori prudenti. Dopo che abbiamo visto questi tre fattori positivi per chi vuole investire in dividendi, andiamo a vedere anche tre fattori negativi. Innanzitutto il potenziale ridotto per chi vuole o per chi cerca guadagni enormi. Infatti uno svantaggio significativo dell'investimento in dividendi è la minore probabilità di raggiungere un'azione, un titolo che magari possa avere un forte apprezzamento nel corso degli anni, un per 5, un per 10, a meno che ovviamente di non avere un orizzonte temporale di lunghissimo periodo. Difficilmente una dividend king o una dividend aristocrat avrà un andamento simile a quello di Nvidia negli ultimi anni. I titoli azionari con dividendi, in particolare quelli con elevati per autorazio, in genere non offrono lo stesso potenziale di crescita dei titoli azionari, i cosiddetti growth. Mentre i dividendi forniscono un reddito regolare, potrebbero i prezzi delle azioni non eguagliare i guadagni in conto capitale che possono magari essere ottenuti tramite le cosiddette aziende growth o comunque quelle più speculative. Un secondo contro che abbiamo negli investimenti in dividendi è chiaramente il rischio di taglio dei dividendi. Ne abbiamo avuti parecchi esempi negli ultimi anni e ne avremo altri ancora negli anni a venire. Ad esempio alcuni dividend aristocrat sono cadute. Parliamo di Walgreens Booth Alliance, parliamo ad esempio di WF Corporation, parliamo ad esempio anche di Legge Template. La stessa Intel che non rientrava tra le dividend aristocrat ha avuto un forte taglio dei dividendi. Ma c'è anche da dire che per un'azienda che taglia i dividendi ne abbiamo tantissime altre che i dividendi li aumenta. Tuttavia i dividendi non sono garantiti e possono essere tagliati o addirittura azzerati se un'azienda affronta delle difficoltà finanziarie oppure se decide magari di riallocare il proprio capitale in maniera differente. Ad esempio un'azienda che preferisce diminuire il debito piuttosto che pagare dividendi elevati. Le aziende con un vantaggio competitivo in erosione, magari con livelli di debito molto elevati o un payout ratio insostenibile sono più suscettibili a tagli o a riduzione dei dividendi. Infine fattore numero 3 per chi vede in negativo l'investimento di dividendi. La trappola dei dividendi in parte riconducibile al rischio di cui prima. Investire in azioni con dividendi ad altissimo rendimento con un yield molto molto elevato può essere rischioso. Ad esempio in questo periodo abbiamo sott'occhio le aziende del settore automobilistico che presentano dividend yield molto molto elevati ma sono dividend yield calcolati sul dividendo appena distribuito. Se come sembra gli utili dovessero calare da qui al prossimo anno potrebbe essere probabile ad esempio che queste aziende possano andare a tagliare il dividendo. Quindi rendimenti eccezionalmente elevati magari dell'8, 9, 10% o anche di più possono indicare problemi di fondo con la società ad esempio una instabilità finanziaria o un imminente taglio dei dividendi. Ovviamente questo non è matematico ma è un fattore di cui tenere conto. Gli investitori devono chiaramente condurre una due diligence quindi un'analisi approfondita per evitare di cadere nelle trappole dei dividendi dove l'alto rendimento potrebbe sembrare un canto della sirena che attira gli investitori prima di una riduzione dei dividendi. Spero che questo video vi sia stato utile perché conoscere gli aspetti positivi ma anche quelli negativi dell'investire in dividendi è comunque un ottimo primo passo per capire se questo approccio è adatto a te oppure no. Gli investitori più esperti cercheranno sicuramente di massimizzare i vantaggi, quindi gli aspetti positivi dell'investimento in dividendo cercando di ridurre al minimo i rischi che abbiamo visto negli ultimi tre punti. Voi invece cosa ne pensate? Avete magari qualcos'altro da aggiungere a questi pro e a questi contro per l'investimento in dividendi? Ebbene, se ne avete ditemelo nei commenti. e poi non dimenticate un bel like al video per sostenere il canale e iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!